Nuova Pescara sì, nuova Pescara no. La fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, si trascina ormai da anni, ma dal referendum del 2014, in cui quasi il 64% di chi si era recato alle urne aveva votato sì alla grande Pescara, la questione era rimasta poco più che una chiacchiera da bar, un'ultima carta per i politici di turno da giocarsi in campagna elettorale. Adesso però sembra che qualcosa si stia smuovendo, dovrà essere convocata una commissione formata da tutti i gruppi consigliari con lo scopo di redigere lo statuto della nuova Pescara. Nel consiglio comunale del capoluogo adriatico sono tutti d'accordo nell'ampliare i confini cittadini, di tutt'altro avviso invece le amministrazioni di Montesilvano e Spoltore. La nostra posizione è questa, innanzitutto capire adesso quali sono gli orientamenti di questi nuovi organismi, ma al di là di questo io credo che i nostri dubbi permangono, permangono anche la luce di una legge regionale che non è chiara, non chiarisce nessun dubbio che riguardano le criticità delle nostre territorie e credo che debba essere rivista diciamo abbondantemente questa legge regionale. Oggi sembrerebbe un salto nel buio per le nostre comunità e quindi la preoccupazione di noi amministratori, innanzitutto parlo per me che non sono ricandidabile, quindi non voglio e non posso difendere la mia cosiddetta poltrona, quindi io lo faccio nello spirito in cui sono stato eletto che è quello di fare quello che è meglio e bene per i nostri cittadini, quindi lo stato attuale questo non ce lo garantisce che questa fusione possa essere un fatto positivo per i nostri territori ed è per questo che appunto dobbiamo intervenire. E anche la regione non sembra avere particolare interesse nel concretizzare la fusione, tant'è che tutto lascia pensare che anche questa volta la discussione finirà in tarallucci e vino. Il primo cittadino dispoltore, Luciano Di Lorito, ha ribadito la sua contrarietà al progetto e ha proposto di ridare nuovamente parola ai cittadini tramite un referendum confermativo che prescinda dal quorum, cioè che se ne accoglieranno i risultati anche qualora non votasse la maggior parte degli aventi diritto. Secondo il sindaco, dopo questi anni di discussione i cittadini hanno più consapevolezza dell'argomento e manifesteranno il proprio dissenso. Oggi c'è una maturità, c'è una consapevolezza di tutti, una maggiore consapevolezza su che significa andare su questa nuova grande città e quindi credo che sia l'elemento più democratico che viene sbandierato da tanti rispetto al 2014 ma che possa essere un nuovo momento fortemente democratico per le nostre popolazioni di esprimersi su un sì o un no rispetto a questa grande pescara.